Allora andiamo a unboxare la sede Si vede e si sente? Si sente e si vede Prendiamo un attimino, arrivo su, dovete aprire una scatola Lo schienale Bello Brute 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 No Brute Brute Mirai sono andato tre anni per montare due bottoni Brute 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 c'è anche la chiave esagonale e questo è la buona cuscina allora se devo unire le due parti quindi il poggia pulo e il poggia schiena schienale anche detto fondamenti dai normali alla fine ha capito tutto da te vedo che è sbagliato guarda guarda te che te congo bene, come sta? come sta te? no 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 cominci a prendere il formato prendiamo gli occhi di un po' vediamo la terra guarda 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 all'inizio Adesso mancano le routine Adesso abbiamo sedia, che ora non ci capite? Adesso, non ci capite? Adesso, non ci capite? Adesso, non ci capite? Adesso, non ci capite? Non ci capite? Noi ce l'abbiamo fatta! Allora, sedia Tectic ragazzi, di quanto mi riguarda niente male, devo dire, comoda, non c'è normale Bene Adesso, non ci capite? 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 Adesso, ne capite? Adesso, non ci capite! Adesso, non ci capite? Adesso, non ci capite? Si